Ben trovati a tutte e a tutti, oggi cominciamo a utilizzare il foglio elettronico ECT, lezione numero 1, gli argomenti di oggi appunto sono questi mostrati qui, tutte le fondamentali del programma, prima nozioni sulle celle e i formati delle celle attraverso un esercizio, creare un foglio elettronico per l'esecuzione di calcoli, prima nozioni sulle formule, operazioni aritmetiche, calcolo di somme automatiche e percentuali, salvataggio, file e cucura del programma, impostazioni del programma. Bene, allora questa prima serie di lezioni ti introdurranno all'uso del programma. Diciamo subito che il foglio elettronico o anche comunemente chiamato spreadsheet in inglese, è il programma che ti consente di realizzare calcoli di contabilità, analisi statistica, analisi diciamo dei dati, quindi veramente è possibile fare tantissime cose. Per prima cosa viene definito il concetto dell'area di lavoro, il foglio, che rappresenta un foglio a quadretti dove ogni riga è rappresentata da una riga, cliccando il numero si evidenzia alla riga e ogni colonna è iniziata da una lettera. Poi qui vedremo, possiamo digitare i valori che io voglio inserire nella mia coordinata, la quale coordinata la posso scegliere anche qui attraverso diciamo un digitazione diretta per essere più rapidi, vedete si spostano automatico sulla cella A2 oppure attraverso l'utilizzo appunto del cursore del mouse che assume questa forma di croce bianca. Facciamo molta attenzione alla visualizzazione del cursore. Qui noi abbiamo la possibilità di effettuare apertura e creazione di nuovi documenti Excel anche attraverso dei modelli che non saranno oggetto diciamo della lezione di oggi. Possiamo quindi vedere la raccolta dei file recenti, io adesso ho aperto questo file qui e andiamo a vedere che cosa si vuole realizzare. Per prima cosa noi nel momento in cui vogliamo realizzare un'elaborazione con spoglio elettrono dobbiamo ricordarci che ogni singola cella, quindi ogni incrocio, sua riga e colonna costituisce diciamo un valore, un dato, il quale dato ha un formato. Immaginiamo di per fare un semplice problema, adesso io ti scrivo l'intestazione di tabella ma in effetti potremmo anche diciamo utilizzare un'altra notazione, per ora ci accontentiamo di questa notazione e ti sto scrivendo appunto diciamo le varie informazioni all'interno del nostro diciamo foglio elettronico, all'interno delle nostre celle e già ti sto facendo vedere che le etichette come vedi quando non arrivano ad occupare una sola cella sporano e vanno a finire all'interno diciamo della cella successiva, ma questo non è un problema. Andiamo a fare doppio clic su la separazione fra due colonne contigue e vedete che immediatamente i dati riescono ad organizzarsi secondo quella che è la pizza. Ora diciamo questo discorso è molto importante. Ora immaginiamo di poter inserire dei prodotti, faremo un semplice esercizio giusto per vedere i formati delle celle, noi inseriamo dei codici dei prodotti, delle descrizioni, delle quantità, dei prezzi unitari, calcoliamo il totale, andiamo a calcolare l'IVA, ancora non abbiamo inserito da nessuna parte l'aliquota IVA, lo faremo qui, quindi qui scriveremo aliquota IVA e poi dopo lo aggiusteremo pure di preparo, quindi diciamo al passo successivo e ora quello che è importante, immaginiamo che il nostro prodotto avesse il primo codice 001, guarda che cosa succede, ovviamente lui interpreta i dati e si rende conto che quello che io sto inserendo è un numero, ma dal mio punto di vista in questo caso non è un'importazione corretta, perché io voglio che sia digitato proprio il valore 001 che rappresenta il codice 001, allora per fare questo innanzitutto selezioniamo giusto alcune celle e andiamo attraverso la scheda home che è il riassunto del menu, alla voce formato in alto a destra, dove andiamo a selezionare appunto formato ceglie e dove andiamo già a definire il formato, in questo caso otteniamo che il formato ceglie e vediamo che sia testuale e vedete che il numeretto è passato dalla parte di sinistra, a questo punto io lo rigido come lo volevo digitare e vedi che i zeri sono mantenuti perfettamente nel mio programma, adesso io sto scrivendo dei dati puramente inventati ma tant'è ci serve per risolvere il nostro problema, nella descrizione ovviamente anche qui decidero che diciamo ci sia la descrizione testuale, quindi seleziono anche qui, ho la stessa operazione ripetitiva, io utilizzo sempre il menu, perché anche in base diciamo di esame di certificazione, patente europea, eipass, pay kit, è importante utilizzare sempre i comandi di menu e poche volte diciamo il tasto a destra del Microsoft, quando espressamente ti viene richiesto, qui inseriamo dei nomi di prodotti, giusto per completare il nostro discorso operativo e andiamo quindi a inserire diciamo alcuni prodotti informatici, giusto per restare in tema, ma quello che interessa è che ovviamente stiamo considerando diciamo tutta una serie di inserimenti di dati di tipo testuale e quindi il dato di tipo testuale è fondamentale inserirlo in maniera corretta, ovviamente come vedete alcuni di questi dati sono usciti dalla cella, riclicco per ora, mi accontento di questo, poi ci sarà un modo più veloce per poterlo gettire, a questo punto vado sulle mie quantità e le quantità per me sono unitari, cioè sono in numeri interi, quindi vado sempre sul formato cella, vado su il valore numero e vado a inserire che hanno zero posizioni decimali, invento delle banali quantità, numeri tutti arbitrari e a questo punto ci interesserà capire invece come si imposta il prezzo, per il prezzo andiamo sempre selezionando le celle sulla voce formato celle, ok, vado su valuta e ovviamente posso scegliere tra varie valute, lui già mi fa trovare l'euro, per me va assolutamente bene ma qua potrei cambiare anche il tipo di valuta, se necessario e vado a importare con ok, a questo punto vado a inserire dei prezzi che siano più o meno congrui ai prodotti e vedi che lui in automatico si aggiusta i dati in base a quello che tu stai inserendo e quindi è fondamentale come decimale io sto inserendo la virgola, lui automaticamente lo traduce come formato decimale, se io inserisco al posto della virgola il punto lui chiaramente lo porta a sinistra perché non lo comprende come numero e quindi ricordate che la virgola decimale che poi in italiano si usa la virgola mentre nella notazione di color esatto ne si usa praticamente il punto decimale, stiamo inserendo i nostri dati, ovviamente stiamo procedendo bene, a questo punto il totale anche qui vogliamo che sia diciamo di tipo valutato, questa volta te lo faccio, solo questa volta con tasto destro, tasto destro, vado tu sempre, vedete qui il formato centro alla fine del risultato è sempre lo stesso, ripeto l'operazione e vado a importare, ora il totale però dovrà essere calcolato, parliamo di totale parziale, come il prodotto fra questa cella qui e questa cella qui, lo stesso dovrò fare qui e qui, perfetto, allora per fare questo utilizzerò la formula, il concetto della formula è che nel foglio elettronico, in tutti i fogli elettronici, tutti i fogli elettronici, utilizzerò uguale, quindi io scriverò uguale, a questo punto mi prendo la coordinata della quantità che sta appunto in C2 e moltiplico per D2, lo potevo anche fare col mouse, l'ho fatto con la testa e quindi viene calcolato il primo dato, ora gli altri dati possiamo calcolarli o manualmente, non farete male a farlo almeno una volta l'esercizio manualmente per imparare ovviamente diciamo a scrivere le formule, lui ti evidenzia le formule che stai scrivendo e soprattutto notiamo subito che l'atterisco per il programma rappresenta appunto l'operazione moltiplicativa, ora però io voglio trovare una soluzione più semplice, vado sulla prima cella, mi vado a copiare la formula attraverso il menu, vado a selezionare le celle rimanenti, vado a fare incolla e lui automaticamente mi incolla il risultato, ovviamente dovremmo fare con la calcolatrice le operazioni, ci fidiamo e è andato tutto bene, ora l'IVA anche qui rappresenta quanta IVA dovrò pagare su questo totale e quindi anche questa dovrà essere una valuta, per fare questo faccio quindi formato celle, vado su valuta e lo imposto come prima, ora l'aricota IVA la andiamo ad inserire come percentuale, innanzitutto vado ad unire e accentrare le celle perché voglio dare una visualizzazione corretta anche per la presentazione dei dati a una persona terza, per quanto riguarda l'IVA vado ad importare una percentuale, una percentuale che mi contente di semplificare il calcolo del mio valore dell'aricota IVA, vado su percentuale, la percentuale mi accontento che sia fatta di 0 cifre decimali, confermo, intericco 22%, anche se non tutti i prodotti in commercio sono sul 22%, ma questa è un'altra faccenda, ora per poter fare l'IVA io devo calcolare questo totale moltiplicato la percentuale, il diviso 100 lo fa lui perché c'è la notazione percentuale, perfetto, a questo punto io riscrivo la stessa forma che è un prodotto, faccio E2 che moltiplica a questo punto la cella H4 e vado a confermare, sembra che sia andato tutto bene ed è giusto così, però guardiamo un attimo cosa accade nel momento in cui vado a fare la copiatura della mia formula, vado a selezionare le mie celle, il programma non fa altro che incollare i valori e come vedi i risultati sono 0, che cosa è successo? La domanda fondamentale è che ovviamente se noi guardiamo le singole formule, vedete che la cella che prima era H4 della percentuale si è spostata, perché quando noi interiamo la formula nella notazione che stiamo vedendo, qualunque sia la cella, stiamo inserendo dei riferimenti relativi, quindi nelle operazioni di copia e incolla si muovono tutte le celle, quindi copiando e incollando lui trasla le coordinate verso il basso, a me non sta bene questa situazione perché io devo muovere questa cella e devo bloccare quest'altra cella, per fare quest'operazione allora ho bisogno di bloccare il riferimento, quindi vado a modificare la mia formula, posso premere o il tasto F2 o comunque andare nella barra della formula che trovi qui e vado a inserire una notazione particolare che è la notazione di riferimento assoluto, sto bloccando la cella, sto bloccando la riga, il risultato della formula è lo stesso, solo che adesso in tutte le operazioni che io farò nel copia e incolla, io stesso sto ripetendo appunto l'operazione, vado immediatamente ad ottenere come risultato i valori corretti che io mi aspettavo, a questo punto mi interessa calcolare i totali, i totali dell'IVA e del totale della merce, quindi totale netto, totale IVATO, per fare questo utilizzerò delle formule informe automatiche, diciamo che per comodità queste celle le interisco tutte in formato celle diciamo valuta, ma utilizzerò solo una parte di queste celle, l'operazione la stiamo ripetendo è sempre la stessa, vado a questo punto a effettuare attraverso varie possibilità, potrei utilizzare diciamo vari strumenti per effettuare le tombe automatiche, vedi qua in alto, vado qua, faccio somma automatica, lui immediatamente capisce anche se prende l'ultima cella che è vuota ed effettua il mio totale, ovviamente noi ci vediamo del totale che lui ha fatto, se io cambio le quantità, ti faccio vedere questa quantità la porto a 24, vedi che ovviamente cambia il tutto, se io cambio il prezzo unitario, questo la porto a 13, cambiano tutto il totale, quindi sta avvenendo tutto quanto deve avvenire, a questo punto vado a fare il totale sull'IVA e quindi utilizzo sempre la notazione somma automatica, lui comprende anche lui qui, diciamo quali sono i dati e l'effetto appunto la tomba, ok, a questo punto qui inseriremo il totale generale di tutto e quindi qua non sarà che altro da fare, è una somma di due numeri, per ora diciamoci accontentiamo di queste semplici formule per imparare appieno le funzionalità del nostro programma e quindi faremo niente altro che questa cella qui che è appunto la cella E9 sommata alla cella appunto F10 e con questa abbiamo fatto la tomba e abbiamo ottenuto, vogliamo fare un minimo di abbellimento, andiamo a inserire per esempio per questa prima colonna diciamo un carattere in grassetto e un bordo che possiamo sempre andare a ottenere in maniera molto veloce attraverso sempre il solto menu di formato celle, formato celle a questo punto andiamo alla voce bordo, inseriamo un bordo perimetrale appunto, possiamo scegliere anche un colore del bordo, possiamo dare anche un riempimento al mio bordo, sia a singolo colore che a motivo, per ora ci accontentiamo di un singolo colore e poiché si tratta di intestazione possiamo anche inserire un allineamento al centro per quanto riguarda appunto le mie etichette e quindi abbiamo ottenuto un primo abbellimento, facciamo la stessa operazione per quanto riguarda queste altre celle qua e andiamo a ripetere l'operazione per imparare bene il procedimento, andiamo a inserire anche qui i bordi e io direi a questo punto inseriamo anche i bordi interni, andiamo a dargli un riempimento di un altro colore per distinguerlo da quello precedente, questo va bene e quindi come vedi stiamo abbellendo e diciamo gestendo in maniera corretta la visualizzazione dei dati, questa è solo una prima parte dell'importazione dei dati perché poi in realtà ci sono diverse metodologie per andare a presentare i dati in maniera esaltiva e corretta, vedete io il bordo lo posso mettere anche in diagonale, se lo voglio togliere però clicco sul bordo e vado a scegliermi qui un colore diverso giusto per far capire che è un totale, faccio l'operazione anche qui per quanto riguarda questa parte qui dove abbiamo appunto i nostri dati di riepilogo e andiamo a inserire anche qui un bordo diciamo con un colore di nostro gradimento, non cambiamo molto il colore anche perché lo stile del riempimento dovrebbe essere sempre diciamo abbastanza uguale, quello che ti posso far vedere ancora è che io posso rinominare in effetti il foglio, lo chiamo foglio 1, qua ne potrei aggiungere un altro e scrivo appunto prodotti, elenco prodotti, quindi è fondamentale che io possa modificare diciamo il mio foglio di lavoro, ora riprendendo un attimo le formule, quindi qua abbiamo utilizzato il dollaro, la notazione del riferimento assoluto, posso anche bloccare una riga o una colonna a seconda delle mie esigenze, come ultima cosa andiamo a vedere il salvataggio, io posso fare salva con nome, a questo punto scelgo la cartella, lui predefinitamente la salva in documenti adesso vi farò vedere perché e lo chiamerò esercizio versione 2, ok, dove io posso andare a scegliere qua il formato del documento, noi scegliamo la voce predefinito e confermiamo, ora una piccola diciamo cosa da vedere è che quando vado sulla voce file e c'è appunto le opzioni del programma, guardiamo che nelle opzioni del programma diciamo il programma ha delle impostazioni predefinite sia dal punto di vista del documento che dal punto di vista del salvataggio, andiamo sul salvataggio e qui osserviamo che la cartella di salvataggio predefinita per lui è in effetti diciamo quella associata alla cartella praticamente del nostro programma che appunto diciamo in genere la cartella percorso salvataggio automatico lo va a salvare in questa cartella qua, mentre la cartella di salvataggio qua potrei cambiarla e devo andare a ricopiare diciamo il mio percorso, per ora non tocchiamo questa importazione però giusto per farti capire poi dove lui farà il primo salvataggio quando il file non avrà il nome, confermiamo con ok, per chiudere il nostro diciamo documento non basta fare altro che chiudi, chiudi non apre praticamente non chiude il programma ma lo lascia aperto, se lo voglio riaprire faccio file o vado su apri oppure prendo l'elenco dei recenti, benissimo con questo ho terminato, vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al canale e a seguire questi video sul foglio elettronico che via via vi daranno informazioni su come autorizzare questo potentissimo programma, grazie, arrivederci.